Ok, ci siamo, Outlast 2 ci sta aspettando So che mi vedete a malapena perché l'unica luce che ho è quella dello schermo davanti a me L'audio è praticamente in double surround per tutta la mia stanza Perché come sapete io ho due casse qua dietro Due casse sulla sinistra e due casse sulla destra Ma soprattutto, come in Outlast, andiamo in modalità notturna Ora voi mi vedete in pratica, come vedete, mi vedete abbastanza bene E siamo pronti ad iniziare Il video ripreso sarà il 7209080 perché purtroppo il mio computer da gaming non vuole far partire il videogioco in una maniera corretta Ho qualche problema con la scheda video Iniziamo, invece con questo il mio fisso dovrebbe funzionare A 10 fps stava funzionando Adesso è andato di nuovo a 60 però prima ha dato qualche problema Mi sto già agitando Ho attivato il double digit allora Ecco, già iniziamo benissimo Già mi sale l'ansia Una croce al contrario Che poi è il logo mi pare di... Eh appunto, Outlast 2 infatti, è il logo ed ecco la croce Mi stanno già salendo i... No, no, non si può notare Ma ho già i pelozzi abbastanza... Già mi sto a c***o adosso ora Non va la texture Ma porca vacca Non si vede niente Ah no, va, va, va Ok Ok Mi trovo dove? Ok Ok Devo disattivare il telefono Se no Se mi suona nel... Mentre gioco Oh, la mia stessa telecamera In 4K Perché giustamente Outlast 2 è in 4K Allora Io ho rimpostato i tasti Perché essendo mancino Più difficoltà a aprire i tasti W, S, C, P, S, C Ora sono io Uh, sì, sono io Usa la telecamera Oh, ma che bella luna Che poi io sto appiglando per il c***o gioco Ma probabilmente mi c***o io adosso Si può correre? Space bar Ok Cosa sta succedendo? Vediamo se c'è qualcuno Mi sono perso E sono il gemido Ok, bloccato Per scappare Premi il tasto left E già qua non va bene Perché essendo mancino Come stavo dicendo prima Avrei problemozzi tecnici Ok Ah, ok Ora posso correre Dove è? Mi sto già C***o stato? Com'è? Ah, ok Ah, ok Si è aperta Oh m***a Mi sto c***o adosso Batteria Vabbè, meglio uscire Ecco, figura che se non ce l'avevo Comunque ho notato che i tasti sono rimasti quelli di una volta Quindi Ok Ci siamo Sana vacca Che c***o è? Una mucca? Ah sì, è una mucca Porca vacca Che c***o Salve Perché sta sparendo? Perché è sparito? Ok Meglio andare qua Non posso? Ho già paura Poi È proprio bello sto triciclo Vacca m***a Da, ma perché devo mettere Cos'è stato? Cos'è stato? Ah, che schifo Che il problema è fatto veramente bene Outlast Putta la p***a Merda Mi sono c***o adosso Ma perché devi bussare? Eh, chi è? C***o è? Che bello Ho paura Chiudiamo per sicurezza Prima che entra Il fantasma formaggino Vediamo se c'è qualcosa Perché ti nascondi? No, non c'è nulla Qui qua Ho visto una luce Cos'è? Una lucina Beh, devo dire che come demo Ha ancora qualche problema Tecnico Tecnicozzo Sul fattore del Vabbè Io scappo Di qua Devo proprio andare di qua Che palle Ma scusa Ah, devo passare per la F***ola Tu F***o F***o Eh, f***o un c***o Mi sono c***o adosso Oh, un spaceboat Oh, sp***o un c***o un c***o Perchè? Perchè? Perchè hanno aumentato la bastardaggino in sto gioco? Ah, vuoi dire che devo passare per Left Eh, ma allora sono Porte Facciamo la cosa Curry, curry È stato bello conoscervi Ronix Ecco Perché c'è una croce E perché devo scendere Già che mi aumenta No, perché mi hai spettato la tele Ecco Perché Oh mio dio Ah, è un orsacchiotto Pensavo che Eh no, questo non è un orsacchiotto Che schifo Che c***o Ma no Sono tutti bambini morti Come c***o? Devo passare qua sotto Che schifo Devo passare qui, senti Corri Questo fa veramente rebrezzo Oh mio dio No, questa cosa fa veramente rebrezzo Fa impressionissimo Che c***o? Che c***o è successo? Che c***o è successo? Eh no, però Non mi fate sti scherzi No, non di qua, di là Per forza Sento Sento dirle urla E mi sti sto scaricando E io dovrei uscire? Ah, col c***o Ah, giustamente Esce da solo il personaggio Dove c***o è? Siamo a Monbello Nelle scuole Oh, c***o Esco di qua io Oh, madonna È chiuso Spiritosi Io non esco di lì No, mi dispiace Mi rifiuto Vabbè Una lavagna luminosa Qua Perché ti ridi? Che c***o ti ridi? Spiegamelo Perché te la stai ridendo? Prendo però ste batterie Che queste mi servono sempre Perché giustamente Eh no Eh no Eh no Fabio calmati È praticamente Cos'è? Cos'è? Cos'è che ha detto? Sì che c'è scritto? Interesse Quanto c***o è creepy la roba Ecco ciò che fa Ok Ok Va bene Che poi si è rompiti di Che c***o era? No, questo è un bug Oh m***a Cosa sta succedendo? Una bloccata Quella non andava Quando si calma Capite che c'è qua il quadra Che non cosa In quel caso Siete fottuti Mo' Perché ha un'estrema paura Che sto colto Non ci f***a? Bloccata Bloccata Ma non me l'aspettavo Dio c***o Te l'ho che c***ata Mi sono c***o Non lo so Quella madonna Cos'è? Mattio bambolo Che spaventa Qua ci sono computer Del 1000 All'allie 90 Dimmi che devo uscire di qua Non voglio più C***a Anna Eva Cioè ragazzi Voi non potete capire Por c***a Ehi 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 Bambina No C***o 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 Oh m***a Che c***o Ok questa cosa È macrabrissima Oh m***a Oh m***a Mamma mia No Eh ma che palle C***o che le luci sono veramente No no Tutto Oh io sto apremendo Riff 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 Cappa 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 Oh C***o in a m******a Corri, 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 corri No, m**** M****, no, non di qua C***o se ti mette ansia sto gioco Vai, vai, spei, 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 spei Vai Oh, but***a, Eva Zio Bondo Scappa 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 Mi sono caduto di nuovo Credo di non avere più il pene Ah, ah, finisce così Ok Sì, 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 va bene È macabrissimo sto gioco, confermo Niente Da questo episodio è tutto Grazie ancora E alla prossima puntata Adesso vado in ospedale a farmi rimpiantare un cuore Perché mi serve Perché dopo tutto questo smaronamento Mi sono cagato proprio d'osso Sonia Sì, 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 sì Sì, sì